La situazione del dissesto finanziario di Casamiccio è arrivata prepotentemente tra i preliminari dell'ultimo Consiglio Comunale. Arnaldo Ferrandino, il sindaco ha teso la mano praticamente? Il sindaco ha teso la mano ma secondo me l'ha attesa troppo tardi perché quando noi gli abbiamo chiesto più volte, prima che succedesse il disastro, se avevano bisogno di una mano, eravamo a disposizione su questo argomento, hanno sempre fatto orecchio da mercante, hanno sempre fatto finta che il problema non esistesse. Oggi che il problema gli è scoppiato in mano aprono alle minoranze e il discorso non è neanche l'apertura alle minoranze. Siamo ancora in tempo a rimediare a questo disastro? Io onestamente non lo so. Diceva anche aspettiamo le motivazioni poi ci metteremo tutti insieme per produrre un ricorso, quindi insieme maggioranza e opposizione. Ma io penso che di fronte al dissesto ci sia poco da ragionare in termini di maggioranza e opposizione. Se esiste una strada per poter evitare l'irreparabile, è evidente che le minoranze non sono irresponsabili da non fornire un supporto nell'interesse globale della cittadinanza ovviamente. Poi se invece non sarà possibile perché non esiste un rimedio, allora è chiaro che ognuno si assurerà le proprie responsabilità. Le carte non le abbiamo ancora viste ma tu credi che la strada di un ricorso possa essere percorribile? Ma guarda, a lume di naso penso di no perché come ho già detto più volte il piano era articolato in dieci anni. Quando nei primi tre anni non si è fatto nulla, come si fa a giustificare questa inattività? Cioè, per essere chiari e far comprendere anche a chi ascolta, se si fa un piano di risanamento in dieci anni quindi significa che ogni anno devono essere fatte una serie di operazioni. Se per i primi tre anni non viene fatto assolutamente nulla, il piano evidentemente non può essere più credibile. Questo, diciamo, è il problema più grave da risolvere.